La settimana santa a Pulsano, una tradizione ormai consolidata che però si rinnova di anno in anno. Sindaco Ecclesia, il senso di questa settimana santa e l'impegno dell'amministrazione? Il senso della settimana santa è quello di vivere i diritti che ci ricordano la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, morto in croce per la salvezza di tutti per cui viviamo tutti insieme quello che è un momento davvero culminante per chi è cattolico e quindi lo si vive naturalmente con grande fede e con grande anche passione dal punto di vista di chi poi organizza questi riti. Noi siamo come amministrazione comunale, in maniera doverosa, lo sentiamo fortissimo, sentiamo il dovere appunto di essere accanto alla confraternita del Purgatorio, fondata sotto il titolo della Madonna del Carmine, perché da secoli organizza questa settimana santa. È stata da tempo immemorabile, quasi deputata, a svolgere i riti dei Sacri Misteri durante la settimana santa, per cui è grazie a questo impegno che viene appunto perpetrato, vivificato nel corso degli anni, che a Pulsano abbiamo questo sentimento forte e questa grande partecipazione, che naturalmente trova il suo culmine nel venerdì santo, ma che naturalmente poi si estrinse, che trova partecipazione anche durante l'intera settimana. Al di là del precipuo e fondamentale valore religioso, la settimana santa a Pulsano può avere la funzione di traino ai fini del marketing territoriale, d'altronde si parla tanto di turismo religioso e questa è l'occasione d'oro. Sì, come tutte le occasioni in cui si rinnova una tradizione, che è quella religiosa, che può essere una manifestazione culturale, La settimana santa costituisce, come dicevamo prima, un grande momento da un punto di vista religioso, ma poi costituisce anche una tradizione popolare, un momento in cui la popolazione attorno ai Sacri Misteri, alla confraternita del Carmine, si riunisce, ritrova se stessa, vivendo in maniera unanime un momento così particolare, quello appunto che si vive il venerdì santo, come poi il giorno di Pasqua in cui risorge appunto nostro Signore. E costituisce la settimana santa come tutti i momenti che fanno tradizione, che affondano le radici nel corso dei decenni e dei secoli, costituisce poi anche un'occasione davvero per fare cultura, anche turismo religioso. E noi siamo contenti di lavorare perché di anno in anno visia anche una promozione sempre più cospicua, più dettagliata, tesa appunto a promuovere questi riti, ma anche a farli conoscere, in maniera tale che la settimana santa attragga quanto più gente possibile e naturalmente sia un momento anche in cui ospitare gente che viene da fuori. Siamo con il priore della confraternita del Purgatorio della Vergine Santissima del Monte Carmelo, Giovanni di Maggio. Cerchiamo di riassumere la storia di questa passione a Pulsano. Quando è nata? Come si è sviluppata? Da quanti anni è proprio in auge? Direi che la processione è nata bene o male con la stessa confraternita. Se teniamo presente che le prime statue sono state realizzate nel 1699, mentre la confraternita è stata ufficialmente fondata nel 1687. Qui possiamo notare che gli anni davvero sono così pochi, per cui ecco perché affermo che la processione è nata più o meno con la nascita della stessa confraternita. Poi nel corso degli anni abbiamo cambiato un po' le statue, o meglio, una parte delle statue della processione. Nel 1832, per esempio, fu data l'incombenza a uno scultore di Ostuni, di un certo Giuseppe Greco, se non ricordo male, che realizzò le statue dei misteri di Cristo all'orto, la colonna, l'ecceomo, il Cristo che cade sotto la croce e la statue del Cristo, il crocifisso. Perché in un verbale si dice che le vecchie statue si erano talmente mal ridotte in quanto erano conservate in un locale adibito a deposito di stoviglie. Io queste cose le ho scoperte quando ero segretario della confraternita e in quell'occasione, leggendo il verbale nel quale si diceva che le statue erano mal ridotte perché conservate in un locale adibito a deposito di stoviglie, la cosa mi incuriosì, perché parlare di statue e poi parlare di locale adibito a deposito di stoviglie è una cosa alquanto strana, mentre invece poi chiedendo agli anziani del paese ho scoperto che locale adibito a deposito di stoviglie significa locale adibito alla conservazione di ogni cosa, di ogni genere, per cui erano tenute così alla rinfusa queste statue e non si sa bene in quale locale. Tuttavia si erano così mal ridotte che l'amministrazione della confraternita fu costretta a commissionarne delle nuove, e sono le attuali, mentre delle vecchie statue c'è rimasta solamente la statua del Cristo morto e dell'addolorata. Ecco, Priore, come procede? Parliamo dell'incedere di questa processione perché uno degli elementi caratterizzanti proprio di una processione è la sua andatura. L'incedere della processione è la cosiddetta nazzecata, quindi lo stesso incedere che hanno i nostri confratelli tarantini. Ci sono delle analogie, delle similitudini dunque? Ci sono delle similitudini, sì, soprattutto nell'abito. La mozzetta è color crema come quella dei confratelli del Carmine, abbiamo lo stesso scapolare. La differenza è che noi abbiamo 14 bottoncini sulla mozzetta, tanti bottoni quante sono le stazioni della Via Crucis. La corona del rosario deve essere rigorosamente a sette poste, perché sette sono i dolori di Maria o sette sono le parole di Cristo in croce. La differenza, per esempio, con Taranto è che noi abbiamo le scarpe nere e le calze bianche e Taranto è esattamente il contrario, cioè le scarpe bianche e le calze nere. Ma tutto sommato, insomma, l'abito è più o meno simile. La confraternita del purgatorio di cui ci stiamo occupando si caratterizza per un aspetto davvero innovativo, oserei dire. Una confraternita composta da tantissimi giovani. L'età media di questa confraternita è all'incirca di 30 anni. Un fatto, ripeto, insolito, ma importante perché evidenzia proprio la religiosità che alberga evidentemente nei giovani pulsanesi. Sì, diciamo che l'età media è addirittura più bassa, perché io sono il più grande, diciamo, tra i giovani e ho 30 anni. Abbiamo il primo assistente che ha 23 anni, il segretario che ce n'è a 21 e il secondo assistente che ce n'è a 20, 21, chiedo scusa. E comunque tutto, diciamo, i cerimonieri e tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione hanno tutti un'età molto bassa, intorno ai 24-25 anni. Quindi questo è segno che la confraternita è giovane e soprattutto è in fermento, è sempre in crescita, perché c'è proprio l'amore dei giovani verso la confraternita. Siamo attratti da questo luogo, da queste tradizioni e ci sentiamo molto partecipi. È un tramandarsi da giovani in giovane, cioè siamo noi giovani che riusciamo ad attirare altri giovani e così via. Un senso, dicevo, di religiosità che smonta il mito dei giovani attratti dalla televisione, dai fenomeni mediatici, dai reality, dei giovani che vivono la passione e la vivono in prima persona attraverso questa processione. Sì, noi siamo dei giovani, per i tempi odierni siamo dei giovani atipici, ma in realtà siamo giovani normali, facciamo le stesse cose che fanno i ragazzi della nostra età, però abbiamo un legame stretto che è dato da questi luoghi, da queste tradizioni e la sera usciamo tutti insieme, però con quella genuinità, con quella lealtà che custodiamo, che ci è stata tramandata e che desideriamo tramandare a tutti gli altri ragazzi che vogliono avvicinarsi. Quelle radici permeate da un senso profondo di religiosità. Sì, diciamo che noi siamo soliti vivere l'intera quaresima tutti insieme, addirittura abbiamo i locali della confraternita dove noi la sera ci ritroviamo, addirittura abbiamo un locale qui a fianco dove ci riuniamo la sera, mangiamo, guardiamo la tv, facciamo tutte le cose che i ragazzi fanno altrove e noi lo facciamo all'interno della confraternita. Da che età hai iniziato questa esperienza? Quanti anni hai ora? Io ora ho 30 anni. Quindi da che età hai iniziato? Io a 14 anni sono diventato confratello perché è l'età minima, al di sotto di quell'età si è aspirati. Anche una tradizione di famiglia? Io personalmente purtroppo no, però ci sono nella confraternita intere famiglie che di generazione in generazione tramandano questa usanza, ma poi non è un'usanza, è proprio un senso di appartenenza, cioè si nasce e già si è proiettati perché da piccoli si vivono già le emozioni di stare vicino al papà, di seguire la mamma con sorelle, quindi già da piccoli c'è questa voglia di arrivare ai 14 anni, vestire l'abito e fare la processione e stare insieme. C'è una grande partecipazione anche di donne a questa confraternita del Purgatorio, un sentire la Pasqua attraverso la passione, attraverso le tradizioni. Ecco, le donne pulsanesi come vivono questa settimana santa e come operano rispetto alla stessa? Allora, questa confraternita, le donne operano diciamo in modo molto assiduo e costante, siamo molto attratte da queste tradizioni e la cosa bella è che durante questo periodo ci compattiamo tutte nel poter aiutare anche i confratelli nel dover sistemare l'estato e noi ci occupiamo magari di stirare gli abiti, di vestire la Madonna. Sono quelle sensazioni che durante questo periodo ti portano al di là del mondo attuale. Io sono consorella da 14 anni, non sono neanche pulsanese, sono tarantina, ma mi sento orgogliosissima di far parte di questa confraternita, anche perché rispetto alle altre forse siamo l'unica dove la consorella può partecipare ai riti della settimana santa. Quindi una settimana anche per vivere la vita con un occhio diverso? Certamente, con più spiritualità, guardandoci all'interno e lasciando fuori il mondo esteriore che purtroppo vive momenti molto ma molto difficili sotto tutti i punti di vista. Quindi una volta che si è in questa settimana santa, la donna insieme con i confratelli vive momenti di passione molto ma molto intensi. Grazie. 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 Grazie.